Veniamo dalla trasferta di Monopoli, diciamo un po' così e così, ci aspettavamo soprattutto per come è andata la partita un risultato diverso, però come hai detto tu guardiamo il lato positivo, abbiamo preso un punto sul Bari, comunque abbiamo allungato la striscia di risultati utili, fa male per come è venuto il pareggio, però dobbiamo per forza pensare a domani e sicuramente domani non è una partita semplice perché loro hanno cambiato allenatore, è un allenatore bravo e hanno comunque sia rispetto alla gara di andata hanno acquistato giocatori di esperienza e quindi sarà una partita abbastanza difficile. I calcoli ora si iniziano a fare verso la fine, però a me personalmente non piace farli calcoli, io ho sempre detto e lo ribadisco che bisogna pensare partita dopo partita, che ogni partita ha una storia a sé, ogni partita è difficile, sia se giochi con le prime della classe sia con le ultime, soprattutto in questo periodo qua, quindi noi ora dobbiamo pensare domani al Potenza, so che magari può essere una frase fatta, però è così, e poi i calcoli man mano andando avanti li faremo. Loro appunto hanno preso Mazzeo, il centrocampo Bucolo, comunque anche lo stesso Romero, hanno comunque ritrovato un acquisto come Bacle che a inizio anno l'hanno perso per infortuni, quindi, l'ho detto prima, è una squadra abbastanza difficile ora da incontrare, anche perché ha cambiato pure il suo modo di giocare, gioca col trequartista, con Di Livio che secondo me è un ottimo giocatore e lui comunque quello che secondo me dà meno punti di riferimento e quindi dobbiamo stare molto attenti anche e soprattutto in fase difensiva. Poi, come hai detto tu prima, è giusto che le partite vadano chiuse prima, però purtroppo non mi sento di farne una colpa agli attaccanti o magari a tutta la squadra, è una cosa di cui abbiamo parlato, è una cosa che ogni partita quando sei sul risultato di vantaggio devi comunque mettere in conto che le partite vanno chiuse prima e che ci può essere un episodio a sfavore, magari delle volte ci è girata bene e poi questa volta ci è girata male.